E' giunta la svolta societaria per la Chieti Calcio. Ieri è stato sottoscritto un accordo preliminare secondo il quale gli attuali soci Giulio Trevisan e Antonio Mergiotti cedono il 60% delle quote all'imprenditore torinese del settore delle energie rinnovabili Ettore Serra sulla base di una determinata cronologia e al verificarsi di certe condizioni. Un primo 30% sarà ceduto entro il primo di agosto, il secondo 30% entro il 28 febbraio 2023, il restante 40% resta nella disponibilità degli attuali soci e potrebbe andare a Serra entro il 30 giugno 2023. In base all'accordo sottoscritto la gestione sportiva passa subito nelle mani di Ettore Serra e del direttore generale Demetrio Sartiano, l'organigramma societario è completato dal responsabile del settore giovanile Giuseppe De Palo e dal segretario Nicola Buracchio, entrambi ex vastese. Non sarà Marco Tosi, come sembrava in un primo momento, il nuovo allenatore, il nome scelto è quello del 58enne Comasco, Corrado Cotta, che lo scorso anno ha allenato in Serie D la Castellanzese e sempre in D ha guidato anche Verbagna, Inveruno, Novese. Due anni fa è stato allo Stuni, in eccellenza pugliese, in Lega Pro ha due esperienze, Como e Prosesto, entrambe allenati in seconda divisione nelle stagioni 2008-2009 e 2009-2010.